Io me lo ricordo Mirko. Altro così, magro, secco, come un chiodo. I capelli biondi, dritti. Mirko. Un pallone da calcio pesa 450 grammi. È di forma rotonda ed è pieno d'aria. Ma per la maggior parte dei ragazzini di tutto il mondo un pallone da calcio è soprattutto pieno di sogni.